Con l'obiettivo di approfondire la conoscenza del territorio e delle strutture sanitarie che vi operano, il direttore generale dell'USL Umbria 1, Nicola Nardella, ha proseguito il suo programma di incontri visitando anche l'ospedale di Città di Castello, accompagnato dalla direzione medica. Tra le eccellenze presenti nel nosocomio Tifernate c'è la breast unit aziendale, con tutte le specialità coinvolte e integrate in un percorso diagnostico e terapeutico assistenziale che vanta anche la possibilità di esecuzione di radioterapia intraoperatoria. Nel 2023 sono stati eseguiti dal 1 gennaio fino al 31 ottobre oltre 260 interventi sui primi tumori della mammella. In totale sono stati circa 350 gli interventi. Sempre nello stesso periodo sono stati effettuati 520 interventi di chirurgia ricostruttiva del seno. A Città di Castello inoltre viene effettuata anche l'attività di chirurgia oncologica per tutte le specialità chirurgiche. Presente e in crescita anche la chirurgia bariatrica, accreditata come Obesity Unit presso la società di riferimento, mentre di riferimento anche per molti pazienti di fuori regione è l'attività chirurgica sui pazienti HIV positivi. Nell'area medica è presente un centro ictus con guardia neurologica attiva 24 ore su 24. Il reparto di ostetricia e ginecologia è un vero punto di forza e registra dati in miglioramento rispetto al 2022 per il numero di parti che è in controtendenza con il livello nazionale. Qui si prevede infatti il superamento della soglia dei 600 parti. All'ospedale di Umbertide infine è attivo il centro dei disturbi del sonno. All'ospedale di Umberto